Dallo studio di DTV, studio 3 per la precisione, secondo appuntamento con lavori in corso, un titolo che credo dia un po' il quadro di questo nostro paese, cioè noi lavoriamo e sono lavori in corso, però molto spesso non si arriva alla fine del prodotto, è un po' pessimistico, però abbiamo fatto questa scelta, è con me naturalmente anche oggi, mi seguirà fino a giugno il collega Pietro Caruso che mi aiuterà, è un grande aiuto e questa volta affrontiamo un pianeta, un problema, vogliamo chiamarlo problema, meglio tema, sanità, pianeta sanità, naturalmente regionale con i suoi debiti, i suoi deficit, le sue necessità, le sue esigenze, un debito che si parla di 260-270 milioni di Euro e quindi insomma con dei problemi da risolvere. Io passo subito la parola a Pietro che è in possesso di un documento molto importante e molto esclusivo, è il documento della Corte, anzi è meglio che lo spieghi lui addirittura, vai pure Pietro, di pure. Ma vogliamo aprire questa puntata che è dedicata ai temi della salute per cercare da un lato di drammatizzare ma anche di tranquillizzare, non per fare i cerchi obottisti sul tema della sanità su cui la spesa pubblica investe più dell'80% come spesa dell'Emilia Romagna ma è sottoposta anche a una serie di verifiche, questo esame che ha licenziato proprio nel mese di novembre la sezione regionale della Corte dei Conti da un lato rassicura e mantiene comunque anche qualche tratto d'ombra che va chiarito. Ricordiamo anche, scusa Pietro se ti interrompo, che nell'ambito della sanità ci sono stati anche, ci sono delle indagini, ci sono dei personaggi, direttori inquisiti, ecco non facciamo nomi ma insomma voglio dire c'è anche un penale o un'ipotesi di penale. C'è anche un contenzioso relativo al funzionamento soprattutto di alcune situazioni di bilancio. però vediamo un pochino come la Corte dei Conti affronta la vicenda. Naturalmente fa l'esame di un triennio 2008-2010 perché non può farlo se non con una serie di indicatori macroeconomici e naturalmente evidenzia una cosa molto semplice che ci sono solo quattro eccezioni che vanno segnalate in cui sono ridotte, sono le Ausl di Bologna, Ferrara, Forlì e Parma dove ammonta un numero di perdite superiore alla media. Però diamo subito il dato. Il perdito di esercizio delle Ausl nell'annualità 2010 c'è un decremento rispetto al 2009 che è del 14,3, passano da 140 milioni 626 mila euro a 120 milioni 411 mila euro. La montata delle perdite dell'azienda ospedaliere è diminuito solo del 6,9%, attenzione, con riferimento alle aziende di riferimento e contenimento sul 17,19%, ad eccezione, come abbiamo già detto, di quelle quattro, Bologna, Ferrara, Forlì e Parma dove questo decremento è più alto. Cosa vuol dire? Vuol dire che spendiamo molto, che si cerca di riorganizzare la spesa sanitaria, vedremo anche con dei contributi in che modo, è chiaro però che il confronto più importante sulla sanità pubblica in questa regione è che si spende molto perché il costo complessivo dei bilanci è attorno a 4 miliardi di spesa, è la maggior spesa del welfare sociale del nostro territorio e la regione si difende molto ma, come hai detto tu, anche con dei limiti evidenti e anche dei rischi perché anche se lo Stato non ha proposto i tagli profondi alle regioni, è anche vero che l'aumento dell'IVA al 22%, il problema della nuova margine di riduzione ospedaliero di degenza, che tra l'altro sentiremo con un contributo che non ne lo porta, ci dà un quadro che va esaminato con molta attenzione. Certo, ecco il quadro generale mi sembra molto chiaro, ci sono dei dati, delle cifre, quindi corte dei conti poi insomma direi molto serio e molto attendibile. Io direi di andare subito in attesa di avere un collegamento telefonico, perché avremo i nostri ospiti stamattina al telefono, di andare con un contributo di Annalisa Bertasi, la nostra giornalista, la nostra corrispondente, sulle condizioni di lavoro dei medici, ANAO Assomed. L'associazione ANAO Assomed in prima linea contro il piano strategico di riorganizzazione della sanità ferrarese per il 2013-2016 è approvato lo scorso 26 giugno da 20 sindaci su 23 presenti alla conferenza territoriale sociosanitaria. L'associazione, che a livello provinciale rappresenta il 73% del personale ospedaliero, esprime forte preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario stesso, poiché il piano approvato andrebbe ad intaccare le condizioni di lavoro di medici e personale e andrebbe a diminuire l'efficienza dei servizi resi ai cittadini. Teniamo presente che i medici del Sant'Anna già oggi, ma ormai da anni, fanno oltre 70.000 ore di straordinario all'anno gratuito, quindi per dare un'idea di qual è la nostra situazione. Quindi è evidente meno praticamente personale, maggiori carichi di lavoro, minore qualità che viene data. Se la regione prevede di recuperare 260 milioni di euro per la sanità regionale, la Nao Assomed punta il dito contro la riduzione di posti letto di prestazioni e servizi. Un posto letto praticamente all'interno di una struttura ospedaliera normale al giorno costa oltre 600 euro. L'operazione ad oggi ha comportato questo, che i posti letto, per esempio, delle medicine, considerando gli ospedali della provincia, già oggi sono 152 in meno. Se poi consideriamo gli altri 42 posti letto, che sono stati tolti in questo momento per le ferie estive, però non sappiamo poi se a settembre verranno, che riguardano praticamente argenta e cento, in totale arriviamo a 200 posti letto. Quindi diciamo che oggi come oggi il taglio è sui 150 minimo, 200 praticamente massimo. Una denuncia, quella dell'Associazione, contro un documento già approvato, finalizzata soprattutto ad informare i cittadini di Ferrara e Provincia, che come conseguenza, nell'immediato futuro, vedranno un allungamento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie ed una maggiore difficoltà per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. Ecco, molto significativa questa cosa. Dovevamo sentire il medico, il dottor Giancarlo Orizio, che è l'ex presidente dell'ordine dei medici di Forlì e Cesena, tra l'altro presidente di missionario per incompatibilità ambientale, ecco appunto, tra l'altro specializzato in geriatria, medico di base, ecco e volevamo sentire un po' che cos'era questa incompatibilità e sul... pronto? Sì, pronto. Dottor Aurizio, buongiorno. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Grazie, buongiorno. Senta dottore, abbiamo appena mandato un servizio, un contributo sulle condizioni di lavoro dei medici ospedalieri, si parla di 70 mila ore di straordinario non remunerato, siamo in zona Ferrara, ecco, io le chiedo una cosa, lei è ex presidente di missionario dell'ordine dei medici di Forlì e Cesena, è una curiosità che abbiamo io e il collega Caruso, che è di fronte a me, incompatibilità ambientale, cioè qual è il motivo reale di queste dimissioni? Dottore, poi chiediamo... Adesso, parlando in trasmissione, comunque il motivo reale è che il presidente di un ordine dei medici, che è un organo istituzionale, rappresenta legalmente l'ente e quindi ci mette la faccia, la firma e tutto, mi pareva opportuno che fosse conoscenza di tutta la macchina organizzativa dell'ente, ecco, la chiuderei qui. Ho capito. Le chiedo, dottore, le chiediamo, i medici, c'è stata che recentemente hanno firmato un documento, c'è stata una riunione, condizioni di lavoro, lei adesso è medico di base, eccetera, però insomma conosce bene la situazione, ci dia un po' in breve, insomma, in sintesi, com'è la situazione dei medici ospedaliari, perché da fuori c'è gente che dice i medici stanno bene, dal di dentro dicono no, non è vero che stiamo bene, dobbiamo lavorare, ci sono una serie di problemi, ci può dire un suo… Ma sì, è una difficoltà che ragionevolmente riguarda tutto il comparto della sanità, non soltanto i medici, gli infermieri, le osse, eccetera, è chiaro che un sistema sanitario nazionale che è sottostimato da sempre, quindi anche da prima che nel 2008 ci fosse questa crisi, ha risentito moltissimo dei tagli e non si può dire che tagli economici portano alla stessa qualità dei servizi, questo ovviamente non è vero e non è neanche giusto dirlo, insomma, c'è un ridimensionamento dei servizi, c'è un ridimensionamento del personale, c'è un personale medico che in particolare in ospedale, ma anche sul territorio, lavora in condizioni di difficoltà e lo dimostrano anche solo le liste di attesa, perché se il personale fosse tarato in funzione della domanda, ad esempio nelle strutture pubbliche non avremmo attese di mesi che poi incoraggiano ad andare verso altre soluzioni. E sui medici del territorio la stessa cosa, uno dei problemi maggiori che tutti i medici sindacati, io adesso poi non è che posso parlare più di uno dell'altro se fossi stato in carica, ma comunque facciamo documenti all'epoca, io credo di un certo rilievo, vennero proprio da Forlì Cesena, perché noi a Forlì avevamo una situazione di disavanzo particolarmente evidente e come ordine credemmo di dare un documento, un contributo. Uno degli aspetti maggiori è quello burocratico, cioè la lamentela maggiore che deriva da molti settori della medicina, in particolare quando riguarda i medici, quindi in questo caso non parlo degli infermieri perché le loro condizioni le conosco meno, è l'aumento del carico burocratico. Insomma è la malattia italiana questa, no? È una malattia italiana però vede quando ci si rivolge a un sistema sanitario, l'attesa è una delle cose peggiori, perché le persone si rivolgono ai medici, ai servizi, alle strutture che siano ospedalieri o territoriali per avere una risposta sanitaria. Quando i medici del territorio oggi passano più tempo a guardare il computer che il viso del loro paziente, anche il rapporto di fiducia comincia ad inclinarsi e quindi c'è un'amarezza, io la definirei così. E lo sento anche dalla sua voce? C'è un'amarezza, io ho notato quando ero presidente, ma lo so che anche adesso sta andando così, che molti medici si fanno fare i conteggi per andare in pensione prima, poi scoraggiati dal fatto che se ci andranno avranno una decurtazione dello stipendio, ma io ricordo che qualche anno fa dovevamo mandarli via, perché compivano gli anni, quindi bisogna... Oggi c'è gente che fa... gli uffici dell'Empam sono pieni di queste richieste, ditemi quanto prendo, ditemi quando ci posso andare. Questo non è un bel segnale, perché il medico si fa per passione e se i carichi che ci sono fuori di pressioni, di burocratici, diventano pesanti, lei capisce che la passione è un sentimento che può variare. Certo, certo. Grazie dottore, grazie. Non so se Pietro vuoi chiedere qualcosa, velocemente. Una cosa velocissima, dottor Aulizio, mi dia... anzi, ci dia un giudizio su queste case della salute dove dovrebbero insomma riorganizzarsi almeno in alcuni territori i medici di base? Ma guardi, è un giudizio rapido, si fa fatica. Dunque la casa della salute è molto semplice da descrivere, perché è una struttura, un presidio socio sanitario si chiamava qualche anno fa, dove il cittadino andando può trovare tutte le risposte che vengono offerte in quella zona, in quel territorio, quindi dai medici di famiglia che si sono uniti in ambulatori di gruppo e quindi sono tutti lì, quindi se non c'è un collega si può andare dall'altro, agli uffici per le prenotazioni CUP, la diagnostica quando c'è, gli specialisti, in alcuni casi addirittura la casa della salute che nasce col piano sanitario del 2006-2008 della legge turco, prevede addirittura dei posti di ricovero gestiti da medici di famiglia. L'idea non è nuova, perché da quando Donald Catten fece nel 1992 decise che andavano chiusi gli ospedali al di sotto di un certo numero di posti letto, si guardò ovviamente a nuove riorganizzazioni territoriali e che poi si chiamavano UTAP secondo Sirchia e con altri nomi secondo gli ultimi ministri, comunque la casa della salute in sé è un'idea ottima, bisogna però, e questo lo voglio sottolineare, anche se mi dà poco tempo, però questo è un aspetto molto importante, che i legislatori si chiariscano, perché non è possibile trasferire nel territorio i meccanismi organizzativi dell'ospedale, perché il territorio è tutt'altro. All'interno dell'ospedale ci sono gerarchie, all'interno dell'ospedale ci sono dei meccanismi, ci sono delle linee guida, ci sono delle cose da rispettare, ma il mondo, tutto quello che è fuori dalla sbarra del pronto soccorso, l'assistenza domiciliare, molto spesso non è nota neanche agli stessi operatori, queste case della salute, come funzionano i CUP, a chi ci si rivolge, ecco, tutti questi meccanismi si incentrano poi su una figura che una volta fu chiamato il regista del territorio, che era e dovrebbe essere il medico di famiglia per la conoscenza che ha dei suoi pazienti, ma se si trasferiscono carichi burocratici e meccanismi organizzativi sul territorio, come nell'ospedale dove a volte non hanno funzionato, è il sistema sanitario a due pilastri, il territorio e l'ospedale, sull'ospedale non so cosa avete detto, ma a qualche parte... No, no, l'abbiamo seguita, siamo disegni... E sul territorio, il territorio ha i suoi problemi, insomma... Sì, certo, dottore, la devi interrompere, anche se dice delle cose, ci dà un quadro molto chiaro della situazione, la devi interrompere perché il tempo sta scadendo e quindi abbiamo, siamo televisivamente, lei sa che siamo molto interessi, io intanto la ringrazio, la ringraziamo per il suo intervento e la sua chiarezza. Grazie mille ancora. Grazie, 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 dottore. Pietro, io direi di chiamare, perché c'è poco tempo e ci ha dato degli orari, la dottoressa Bianca Caruso, la regia così mi sente, direttore della rete ospedaliera dell'USL di Ravenna. C'è, nell'attesa che ci passi la dottoressa, al telefono potremmo vedere un altro contributo, sempre di Annalisa Bertasi, sull'assistenza alternativa, che poi riguarda in qualche modo quello di cui si occupa la dottoressa Caruso. In Emilia Romagna è stata avviata la sperimentazione di una modalità alternativa di organizzazione dell'assistenza in ospedale, un'organizzazione non più articolata come da tradizione in reparti o unità operative in base alla patologia e alla disciplina medica, ma articolata in aree omogenee che ospitano i pazienti in base alla gravità del caso clinico e del livello di complessità assistenziale. È uno dei modelli che ci propone la Regione, proprio per cercare di rendere coerente l'allocazione delle risorse, delle poche risorse che abbiamo, in una logica di efficacia e di efficienza. Si tratta di non creare tante realtà specialistiche che sovrappongono attività, funzioni e poi gestione più o meno delle stesse criticità, ma di, al contrario, definire dei livelli differenti dove concentrare le risorse che occorrono. Se è questo il nuovo ospedale che si sperimenta anche in Emilia-Romagna per coniugare meglio sicurezza, efficienza, efficacia ed economicità dell'assistenza, medici e infermieri si approcciano con alcune perplessità a questo nuovo modello. In Italia e in certe regioni fra le quali la nostra si sta parlando di fare gli ospedali basati sull'intensità di cura. È l'Inghilterra che ha fatto questa esperienza circa dieci anni fa. È buon testimone che questo sistema non è utile per gli ospedali complessi e c'è un ritorno indietro in Inghilterra nel ricreare le unità operative con una propria tipicità. La situazione è come quella fra Fiat e Ferrari. Se noi vogliamo fare una macchina a basso contenuto, fra virgolette, allora si omogenizza tutto. Però se vogliamo una macchina che dia veramente risultati molto importanti bisogna andare in un'equip specializzata. Anche di questo si è discusso nelle giornate del 25 e 26 ottobre nel corso del convegno bolognese GastroCare. Nell'ambito della sanità non siamo tutti così pronti. Dicevo che uno degli aspetti sicuramente da gestire è il cambiamento, è il cambiamento rispetto alle nostre abitudini, rispetto al nostro modo di organizzare il lavoro e le attività. Sicuramente il primo passo è un adeguamento culturale, che sicuramente la partecipazione dei professionisti all'interno di questi progetti di riorganizzazione è l'elemento fondamentale. Bene, ci fermiamo un primo blocco, ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi ci rivediamo tra poco. Grazie a tutti.